Se avevate dei dubbi sui veri obiettivi della riforma costituzionale di Renzi e del suo governo a cui gli italiani hanno detto no domenica 4 dicembre, adesso finalmente potete toglierveli. Infatti arrivano le prime gole profonde e stiamo parlando niente meno che del consigliere della Merkel, perdonate la mia pronuncia tedesca perché io il tedesco non lo so, Volker Philand, credo che si pronunci così, consigliere di Angela Merkel, che sentite che cosa dice? L'Italia chieda aiuto all'ESM. Poi vi spiego che cos'è l'ESM. Il nuovo esecutivo italiano dovrebbe chiedere un programma di aiuti all'ESM e anche il Fondo Monetario Internazionale dovrebbe essere coinvolto in questo programma di aiuti. Da un lato rappresenterebbe uno scudo in caso di crisi debitorie in Italia e dall'altro ESM e Fondo Monetario Internazionale assieme potrebbero esercitare le giuste pressioni per sbloccare le riforme. Quale riforme? Beh, si capisce in fondo da quello che dice questo signore, l'Italia ha bisogno di una politica dell'offerta vicina al mercato, riforme del lavoro, riforme delle condizioni economiche eccetera eccetera. Allora, caso mai voi non lo sapeste, adesso vi spiego che cos'è l'ESM. ESM è l'acronimo inglese che significa European Stability Mechanism, ma in italiano noi lo pronunciamo MESS e come MESS l'abbiamo affermato. MESS cioè Meccanismo Europeo di Stabilità. Dopo un po' di idee su come organizzare questi fondi salva stati, a certo punto tirarono fuori dal cappello nel 2012 questo MESS. Allora siccome non tutti qua dentro seguite questo blog dal 2012 e siccome nel 2012 ho fatto una campagna pesante contro il Meccanismo Europeo di Stabilità e vi garantisco che all'epoca eravamo in pochi, i grandi media mainstream non ne hanno parlato proprio, mentre su internet c'eravamo in due o tre o tre o quattro. Allora il Meccanismo Europeo di Stabilità è un obbrobrio, un mostro giuridico nel quale sfortunatamente siamo entrati grazie alla firma di questo trattato internazionale, perché di trattato internazionale trattasi. In realtà il MESS si configura come un'organizzazione internazionale con sede, guarda un po', a Lussemburgo. Secondo questa organizzazione internazionale, secondo il trattato che abbiamo firmato, noi dobbiamo conferire una serie di apporti di liquidità e abbiamo cominciato con l'impegnarsi per 125 miliardi di euro. Questi apporti di liquidità che sono stabiliti direttamente da questa organizzazione finanziaria non hanno limiti temporali e possono essere conferiti, devono essere conferiti ogni volta che questo fondo ne richiede una nuova tranche e nessun governo, badate bene perché c'è scritto proprio così nel trattato, nessun governo può cambiare questo stato di cose, cioè se cambia governo e l'organizzazione finanziaria con sede a Lussemburgo decide che servono altri 100 miliardi, il nuovo governo li deve conferire. Detto tra parentesi, tutta la riforma costituzionale sulla narrazione dei risparmi di Renzi si basava su qualcosa come 50 milioni di euro risparmiati al Senato, qui ci siamo impegnati per 125 miliardi di euro, non milioni, miliardi di euro e nessuno ha battuto ciglio. Questo perché voi lo sappiate, andate a cercare su bioblu.com il post che si chiama Un fiore sulla mia tomba, c'è un grafico tratto da fonti della ragioneria dello Stato, quindi non micio micio, bau bau, e in quel grafico si vede bene, si percepisce bene qual è la fonte vera dei costi che il nostro paese deve sostenere. Bene, allora, questo è ESM che è stato firmato in allegria, ovviamente i giornali dell'epoca ne diedero notizie a pagina 7, il Corriere della Sera, pagina 7, 5 righe e mezza, insieme al Fiscal Compact. Andatevelo a vedere, cercate sempre sul mio blog il post 5 righe e mezza e guardate di che informazione scandalosa disponiamo in questo paese. Trattati che avrebbero segnato per sempre, se non per tantissimo tempo, i sacrifici, il sangue, la fatica del popolo italiano e che furono liquidati con 5 righe e mezza a pagina 7 del Corriere della Sera. Oltre a questi conferimenti illimitati e indefiniti nel tempo, c'è un vero e proprio blocchetto di assegni in bianco con la cifra da porre a carico di questa organizzazione, il MES stabiliva anche che questi signori del board avessero non solo la totale immunità, ma anche la totale, c'è un termine specifico, cioè la mancanza di trasparenza totale. Nessuno può andare a vedere i documenti che producono questi signori. Questi signori producono dei fondi, lavorano a dei fondi per salvare gli stati, producono dei memorandum a cui gli stati si devono ottenere, ma nessuno, nonostante si parli di politica a favore dei cittadini, la politica dovrebbe essere eminentemente l'occupazione e l'attività dei cittadini che cercano così di inseguire come obiettivo il loro bene comune. Pensate se in questo obiettivo, in questa attività quotidiana non si potesse neanche scambiarsi i documenti o dire ma tu cosa stai lavorando, ma quali sono i tuoi obiettivi. Ecco, questa organizzazione finanziaria è assolutamente insindacabile, è assolutamente opaca, perché non è possibile per nessuna forza dell'ordine non soltanto aprire i computer dei partecipanti del board, guardare negli archivi, guardare nella posta elettronica, ma è assolutamente impossibile anche chiedere i documenti e sapere qualunque cosa abbiano deciso. Questo è il mess, ma attenzione, voi direte l'hanno firmato tutti perché l'hanno firmato in 17 paesi, la nostra quota, ripeto, fu di 125 miliardi e allora bene o male siamo tutti nella stessa barca. Sbagliato. Cosa è successo in Germania? I furbetti, giustamente, hanno fatto benissimo perché i tedeschi non sono ciucciarielli come noi. In Germania la Corte Costituzionale è stata chiamata in causa per valutare l'aderenza, la coerenza di questo trattato internazionale con la loro Costituzione e la Corte Costituzionale ha detto no, cari signori, va bene, teniamoci questo trattato internazionale, aderiamo a questo programma di salvataggi che in realtà è un fondo che è quello dei paradisi fiscali al confronto è una roba da liceali, ma stralciamo assolutamente due punti. Primo punto, non esiste che ci siano dei conferimenti in bianco e illimitati nel tempo sui quali il Parlamento non possa esprimersi, perché così è attualmente, il Parlamento, per esempio quello italiano, se questi qua chiedono dei soldi non può rifiutarsi di darne e neanche se cambia il governo. La Corte Costituzionale tedesca ha detto non esiste, qualunque richiesta di nuovi fondi deve passare attraverso il Parlamento. Seconda cosa che ha detto la Corte Costituzionale tedesca, la mancanza di trasparenza non è consentita. a richiesta del Parlamento i documenti e le decisioni che vengono prese all'interno del board in Lussemburgo devono essere aperte, devono essere consultabili e si può ovviamente sindacare. Ecco, voi direte bravi e fessi noi, ma non è soltanto questo. Voi sapete che la nostra Costituzione, che per fortuna Renzi non è riuscito a toccare, all'articolo 11 stabilisce, a parte la dichiarazione sulla guerra, che sono consentite le limitazioni di sovranità. Ok? Questa non è una limitazione di sovranità questa, cioè io non posso, non sono libero di non darti dei soldi, cioè tu vi chiedi io te li devo dare. Ok? Per sempre. E inoltre non posso neanche chiederti perché, non posso guardare i documenti. Sono consentite, dice la Costituzione, le limitazioni di sovranità a patto che siano effettuate in condizioni di parità con gli altri stati. In condizioni di parità, cioè nel momento in cui firmiamo un trattato internazionale, tutti devono aderire alle stesse condizioni. Ma siccome noi abbiamo aderito, abbiamo ratificato, come si dice, questo trattato internazionale e successivamente la Germania l'ha cambiato, perché hanno una Corte Costituzionale che decide su questi temi, a questo punto abbiamo un'adesione, un trattato, un accordo, un contratto che limita pesantemente la nostra sovranità, ma che è effettuato in condizioni di disparità tra lo Stato italiano e lo Stato tedesco, perché lo Stato tedesco non ha delle limitazioni che noi abbiamo. Questa cosa è assolutamente incostituzionale. Cioè il trattato internazionale viola l'articolo 11 della nostra Costituzione. Allora voi direte, ma allora se fosse così la nostra Corte Costituzionale l'avrebbe giudicato incostituzionale. Già, l'avrebbe giudicato incostituzionale se qualcuno gliel'avesse chiesto. Qual è il punto? Che non glielo possiamo chiedere. Perché noi, a differenza della Corte Costituzionale tedesca, dove un qualunque cittadino può sollevare l'obiezione di incostituzionalità, da noi soltanto un giudice, nello svolgersi di una causa, può stabilire che per arrivare a sentenza deve prima accertarsi della costituzionalità di questo o quello. E a quel punto viene tirata in ballo la Corte Costituzionale. Ma provate a pensare a quale diavolo di causa potremmo inventarci per la quale un giudice, per arrivare a sentenza su quella causa, dovrebbe chiedere alla Corte Costituzionale se il meccanismo europeo di stabilità è costituzionale. Cioè è un rebus, un puzzle complicatissimo, un garbuglio quasi irrisolvibile. Quindi nessuno è mai riuscito a far esprimere la Corte Costituzionale sull'incostituzionalità del MES. Ovviamente se voi avete un'idea e siete dei brillanti geni della giurisprudenza fate pure, proponetela. Ma fino adesso non è stato possibile. Ma noi abbiamo firmato un trattato internazionale al momento assolutamente incostituzionale. Con queste pesanti limitazioni, se ci chiedono i soldi non possiamo rifiutarci di darli, neanche se cambia governo siamo autorizzati, perché questo dice il trattato, andatevelo a vedere, neanche se cambia governo siamo autorizzati a rifiutarci di pagare. Attenzione che non è l'unica nefandezza di questo meccanismo europeo di stabilità, perché il bello deve ancora venire. Cosa succede se un paese che ha aderito, ovviamente conferendo, impegnandosi per la capitalizzazione, noi con questi 125 miliardi, a un certo punto ha bisogno di aiuto, no? Non vi ho detto chi c'è in questo board. In questo board ci sono i dodici, tutti i ministri dell'economia dei paesi aderenti. All'epoca c'era per esempio Mario Monti, sono loro che decidono. Ma attenzione non ci sono soltanto i ministri dell'economia, c'è anche la banca centrale europea e quindi Mario Draghi. E udite, udite, seduti a quel tavolo ad ascoltare ci sono anche gli esponenti della grande finanza speculativa internazionale, dei fondi, eccetera, eccetera. Sono seduti a quello stesso tavolo, pensate, pensate che cosa si dicono e in base a quali valutazioni prendono le loro decisioni. C'è anche il Fondo Monetario Internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, quello invocato da questo Volker Willand, consigliere della Merkel che dice che dovrebbe arrivare in Italia anche il Fondo Monetario Internazionale. Ma voi ve lo ricordate che cosa ha fatto il Fondo Monetario Internazionale in Grecia? Con lo stesso meccanismo è entrato, programma di salvataggio, non esisteva ancora l'ESM, figuratevi se ci fosse oggi, ha immediatamente falcidiato il paese con un programma di svendite, di privatizzazioni che ha portato via gli aeroporti, le poste e tutto il resto. È la stessa cosa che volevano fare in Italia, volevano passare per lo stralcio delle costituzioni giudicate troppo socialiste, cioè troppo garantiste, che tutelano troppo i cittadini, non ci sono riusciti e quindi esce questo qui e dice cosa succede se l'Italia a un certo punto dovesse chiedere un aiuto, no? Che poi questo tizio dice no ma sai perché dovete chiedere un aiuto perché se poi un giorno avreste bisogno almeno siamo già avanti, no? È come dire se un giorno dovesse mirvi un tumore voi cominciate già a fare la chemio, no? Poi se vi viene almeno siete già avanti. Ma che cosa vuol dire? Chiederemo gli aiuti, ne avremo bisogno perché prima avremo recuperato la nostra sovranità monetaria a ospico, ma nel caso uno gli chiede quando ne ha bisogno. Cosa succede comunque se uno chiede gli aiuti? La prima cosa è che viene commissariato. Il meccanismo europeo di stabilità, altrimenti detto MES, implica che alla richiesta degli aiuti un paese viene commissariato, cala la troica, fondo monetario internazionale, rappresentanti della Commissione europea, che vengono in Parlamento e il Parlamento di uno Stato sovrano non è più libero da quel momento in poi di fare le sue politiche economico-monetarie come preferisce, economiche perché le monetarie non ce le abbiamo più. Quindi chiedere aiuti al MES equivale a siglare il proprio commissariamento, cioè a perdere tutto d'un botto la sovranità, diciamo quella che ci resta. Quando dicono queste cose qua, quando sentirete qualcuno andare in televisione e dire ah dovremmo utilizzare il fondo salva stati cosiddetto MES o SM perché abbiamo aderito e questo potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemi, il debito e tutto il resto. Quando sentirete pronunciare queste magiche parole, questo acronimo, voi sapete chi avete davanti, avete un esponente di quell'organizzazione finanziaria opaca che non può essere ispezionata da alcuna forza dell'ordine fatta di persone che hanno una totale impunità e che possono chiederci i soldi e ce l'hanno già chiesti in misura spropositata all'infinito e che nel momento in cui noi ci azzardiamo ad avere qualche cosa indietro, poi facevo sempre questo paragone, è un po' come avere l'assicurazione perché parlano questi grandi economisti, questi editorialisti, ma il fondo salva stati, i fondi salva stati, noi bisogna anche ricapitalizzare perché poi ci aiutano no? Ma io quando pago l'assicurazione, la mia rata dell'assicurazione per l'auto, se faccio un incidente, a parte la franchigia, poi ci pensa l'assicurazione, giusto? Non è che l'assicurazione siccome faccio l'incidente viene a casa mia, mi commissaria il budget, ok? E poi mi chiedi i soldi indietro perché questo non ve l'ho detto, una volta che tu chiedi aiuto al MES, non soltanto ti commissariano e vengono a casa tua, ma ti chiedono i soldi indietro, tu ti sei già impegnato, hai dato 125 miliardi di euro, ma se per caso ne hai bisogno indietro di 50 loro te li prestano, è meraviglioso, allora quando sentirete qualcuno in televisione dire effettivamente adesso la soluzione forse potrebbe essere il meccanismo europeo di stabilità, voi sapete di cosa stiamo parlando, chiudete immediatamente la televisione, accendete la rete e mandateli a fanculo, perché ve lo racconto? Perché non tutti quelli che sono qui su YouTube in questo momento, su questo canale, ci sono state tantissime iscrizioni recenti, magari sono dalla prima ora, fin dal 2012 quando facevo grande battaglia su questo tema, a differenza del Corriere della Sera che ha dato notizia con 5 righe e mezza a pagina 7 e quando facevo queste battaglie, molti di coloro che bazzicano questo canale non c'erano e quindi è giusto ripetere e ricordare adesso in virtù delle parole del consigliere di Angela Merkel dopo il no al referendum, che cosa cercano di propinarci questi signori e come pensano di fregarci una volta per tutte, passate parola.